Siamo in rappresentanza di Guido Un Mito, che è un'iniziativa a livello nazionale per la guida delle Ferrari, delle Lamborghini e di anche altre spettacolari supercar. Facciamo dei giri assistiti dai piloti istruttori della Scuola Italiana Guida Sicura e Sportiva. Sostanzialmente si può anche guidare assistiti da noi istruttori oppure si possono fare degli hot lap su strada, dei giri assistiti, degli hot lap sono invece in pista. Qui in Fiera facciamo ovviamente dei piccoli giri su strada mentre la nostra vera attività è quella di fare dei giri assistiti sul circuito di Latina. Trovate tutto su guidounmito.it. L'altra particolarità, anche più importante, è la Scuola Italiana di Guida Sicura e Sportiva. Si possono fare corsi di guida sicura e sportiva per tutti i livelli a partire da 99 euro. Grazie! Grazie!